La famiglia ha tanti problemi che la mettono alla prova, il primo dei quali è la guerra, la madre di tutte le povertà. Lo ha detto il Papa che nell'udienza di oggi ha annunciato un ciclo di catechesi sulla vulnerabilità della famiglia, messa alla prova dall'economia che è specializzata nel godimento del benessere individuale ma pratica un vero e proprio sfruttamento dei legami familiari. Ci sono dei pianificatori del benessere, ha denunciato il Papa, che considerano gli affetti, i legami familiari come una proprietà secondaria della qualità della vita. Invece tutti noi dovremmo inginocchiarci di fronte a quelle tante famiglie messe a dura prova dalla povertà che cercano con dignità di condurre la loro vita quotidiana. Sono una vera scuola di umanità che preserva la società dalla balbaria. Noi cristiani dovremmo essere più vicini alle famiglie all'appello del Papa, quelle messe a dura prova specialmente dalla povertà. E allora facciamo tutto il possibile perché queste famiglie riescono ad andare avanti.